Se non avete mai iniziato un corso di full dance credendo di dovervi necessariamente scoprire, no, non è vero. Vi ho portato, per intenderci, abbigliamento normale di cotone, maglina, ecco, questo fa scivolare effettivamente. A seconda degli esercizi che si vogliono fare, può essere utile un abbigliamento che faciliti lo scivolamento oppure che faciliti la presa sul palo. In gergo si dice che il tessuto fa grip quando ci permette di rimanere aderenti ad un altro materiale. Vediamo. Questo è perfetto. Direi che anche questo è promosso. In commercio ci sono anche tessuti un po' meno apparecenti. Quindi niente scuse, se volete iniziare un corso di full dance siete sempre in tempo. Seguitevi o scrivetevi per altre curiosità dal mondo della full dance. Grazie. Grazie. Grazie.